I residenti e gli imprenditori delle strutture ricettive presenti nella zona nord del comune costiero di Giulianova, ridosso della foce del Salinello, sono tornati a denunciare lo stato di abbandono dell'alveo del fiume. Per questo motivo hanno inviato una diffida al genio civile di Teramo, alla provincia, al comune di Giulianova, all'aggiunta regionale per conoscenza alla Procura della Repubblica. Questo per chiedere il ripristino funzionale dell'argine irregolare del flusso delle acque, al fine di evitare eventuali danni all'intero quartiere, che potrebbero essere causati da possibili piene del fiume. Ci fu nel 2011 un alluvione che potenzialmente rischiava di far sgomberare l'intera zona, che ci sono centinaia e centinaia di abitanti, e nonostante i nostri solleciti i lavori non sono stati mai realizzati. E quindi è tutto irrisolto, ed è il caso ancora più drammatico, perché i fondi erano stati stanziati, una ditta aveva iniziato i lavori nella parte ovest, dove parte degli argini sono stati anche ricostruiti, per cui adesso i pericoli sono maggiori, in quanto non c'è più una potenziale sondazione ad ovest, tutta l'acqua, con maggiore quantità e violenza, si riverserà, in caso di eccezionali eventi meteorici, in questo quartiere, con tanti danni che ci potrebbero essere. L'argine destro del corso d'acqua, quindi nel comune di Giulianova, avrebbe subito pesanti modifiche con il dissesto del terrazzamento di rinforzo costituito da blocchi di cemento e la demolizione di opere in cemento più volte segnalata. Nell'alveo del fiume sono cresciuti alberi che superano i 10 metri, aspettiamo che l'amministrazione di questo comune venga e faccia un sopralluogo almeno e si occupi di queste aree come si è occupato del lungomare monumentale, che forse a loro interessa più del fatto che il salino possa esondare e praticamente allagare tutta l'area. Ma anche considerato che oltre ai tanti residenti in quella zona ci sono anche numerosi campeggi che potrebbero essere interessati in caso di piena del fiume. Sì, l'avevamo già detto diverse volte, lo stiamo dicendo, anche perché c'era stato un appalto, poi è stato revocato perché sono stati tolti i fondi e noi chiediamo che vengano rimessi i fondi affinché queste criticità vengano risolte una volta per tutte. Cercheremo in tutti i modi di trovare la soluzione, perché questo è un pericolo per tutti.